Un incidente ferroviario in Iran ha causato decine di feriti e almeno otto morti, ma è un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi perché si tratta di un tamponamento tra due treni passeggeri, entrambi diretti a Mashhad, una città a meta di peregrinaggi. Uno proveniva da Teheran ed era stracarico, come accade quasi sempre su quella linea, nella stazione Haftkan a Sharoud, più o meno a metà percorso. Il convoglio fermo è stato tamponato dall'altro proveniente da Tabriz. Il fatto che si tratti di un tamponamento e non di uno scontro frontale potrebbe limitare il numero delle vittime, ma secondo le prime testimonianze il convoglio è sopraggiunto ad alta velocità ed era a sua volta stracarico di pellegrini.